della scala. La Val d'Orcia, importante ricordare, forse viene detto anche successivamente, è attraversata dalla via Francigena. Oggi un importante tragitto percorso da turisti, un tempo da pellegrini, viandanti e anche visitatori di amministrazione sociale, quindi fin dal medioevo e lungo la via Francigena alcune tappe, alcuni luoghi di sosta permettevano appunto di proporre ospitalità, luogo per la cura e il proseguo del cammino andando verso sud in direzione Roma. Giusto per dare un riferimento geografico, la provincia di Siena, appunto la Val d'Orcia è nell'area sud della provincia di Siena, quindi è una direzione che si sposta verso Roma e la via Francigena diretta a Roma attraversa la Val d'Orcia. Spelaretto, che già nel nome richiama la funzione di ospedale, fu una fattoria fortificata già esistente nel XII secolo, dal 1263 di proprietà del Santo Maria della Scala, dell'ospedale senese che arricchendosi costruì o fece proprie fattorie fortificate lungo la strada Francigena come filiali dell'ospedale stesso e granai e per questo appunto grancia fattoria fortificata in quanto in questo luogo erano conservati grandi prodotti che poi venivano spediti a Siena per la sussistenza dell'ospedale stesso con un sistema virtuoso particolarmente funzionale per diversi secoli. Luogo assolutamente interessante da un punto di vista anche architettonico, paesaggistico perché è al centro della Val d'Orcia e che conserva ancora oggi la funzione per cui è nato perché è ancora oggi una fattoria di fatto e interessante e importante nel Quattrocento perché fu ristrutturato, fu conclusa la chiesa in cui era presente quest'opera e per cui fu commissionata quest'opera dalla committenza ospedaliera. in parte in basso, vedete che sto indicando, due stemmi ai lati che sono la scala, simbolo del Santa Maria della Scala dell'ospedale senese con la croce sopra che è proprio un po' il simbolo del riconoscimento di questa istituzione, opera commissionata dicevo dall'ospedale ma consacrata dallo stesso Pio II che nel settembre del 1462, lo stesso anno in cui fu compiuta la cattedrale di Pienza e comunque la data di conclusione dei lavori della città di Pienza, fu fisicamente presente alla consacrazione della chiesa e dell'opera che qui vediamo, quindi ancora una volta l'enturaggio e rinascimentare la figura di Pio II sono importanti per il nostro pittore. Opera in cui è rappresentata la Madonna con il bambino al centro in una vera e propria stata la conversazione questa volta, quindi i Santi sono inseriti all'interno di un ambiente architettonico, un grande novità e uno stravolgimento nell'arte senese perché il fondo oro viene a mancare completamente e questa è la prima opera senese in cui non abbiamo un fondo piatto dorato ma un cielo atmosferico in alto, una struttura rinascimentale con i Santi a semicerchio intorno alla Vergine con il bambino, Santi, Biagio da sinistra, San Giovanni Battista, San Nicola con le tre paglie d'oro che porta nel suo, appunto, sorrenti dal suo manto e San Floriano. I Santi Nicola e Floriano sono legati direttamente a figure dell'istituzione ospedaliera negli anni come hanno dimostrato dei documenti e le altre figure alla demozione locale. Quest'opera parla di rinascimento, validazione come un manifesto, parla e conversa con la grande tradizione del rinascimento di Domenico Veneziano e della pittura di luce del primo 400 fiorentino e numerosissimi studiosi ne hanno parlato tra cui Luciano Bellosi parlando di pittura di luce come coincusso tipicamente fiorentino della prima metà del 400 in cui le architetture dialogano con colori termini, eleganti e con questa plasticità dei corpi in un'armonia perfetta sembra, appunto, essere il modello per la nostra parla di pienza. Il vecchietta più ormai maturo è il grande vecchietta, insomma, da un manuale e le citazioni sono numerosissime. Dal punto di vista dell'impostazione, del concetto della luce, viene da sola il riferimento a Domenico Veneziano, a questa parla dell'uffizio, è uno dei più grandi manifesti del rinascimento, ma dal punto di vista anche della iconografia, in alto la carpenteria che è ancora una volta all'antica, quindi c'è questo gusto classicheggiante che ritorna, se non ci fossero le scene di niente dentro potrebbe essere un frontone di un tempio, un riferimento classico. In alto, nella lunetta, c'è questa interessante annunciazione, annunciazione che, da un punto di vista iconografico, anche qui, porta una tradizione antica, senese, medievale, che trova i suoi richiami in... Ora, un brutto argomento, c'è la scania, scusate, quella che, appunto, che indico, la prima grande annunciazione della tradizione senese che è Simone Martini, oggi è agli uffizi, quindi è il manifesto delle annunciazioni del 300 senese e medievale in senso lato. Riprodotta poi dai diversi pittori senesi nel corso del tutto il 300 e anche del 400, Matteo di Giovanni è uno dei pittori che propongo qua, per arrivare, secondo una iconografia che è una citazione ma anche un rinnovamento, fino al vecchietta. Quindi la Madonna annunciata che si scosta e l'angelo annunciante invece che va verso di lei, ma è inserita all'interno di questa chiara e tipicamente rinascimentale architettura che non può richiamare agli occhi il politico di Sant'Antonio di Piero della Francesca della Galleria Nazionale dell'Umbria a Perugia. Quindi il vecchietta ormai maturo, ormai abituato a dialogare con i suoi grandi, con i grandissimi riferimenti del rinascimento e quindi con la pittura di luce di Domenico Veneziano di cui Piero della Francesca fu un grande interprete, ne è anche lui un diretto seguace. Non dico che una sia la citazione dell'altra, però da un punto di vista soltanto così estetico, essendo le prime annunciazioni realizzate con questo concetto architettonico, diciamo si richiamano assolutamente. Interessante la parte bassa dell'opera in cui nella predella sono presenti il martirio di San Biagio, poi c'è la Procepzione e il miracolo di San Nicola e ancora una volta qui l'aspetto plastico, l'aspetto diciamo diverso del vecchietta che viene fuori e sono le figure come, diciamo delle figure scultore che dividono le scene della predella che hanno un diretto richiamo nelle virtù che dividono all'interno del battistero di Siena, che sta sotto la cattedrale, gli scomparti bassorilievi realizzati dai grandi artisti del nascimento, tra cui Donatello. Donatello figura che fu decisamente importante e anche devastante per la carriera del vecchietta in quanto con le sue due esperienze, con i due momenti a Siena fu conosciuto dal vecchietta stesso perché Donatello lavorò nel battistero di Siena nel cui il vecchietta aveva realizzato delle pitture e poi tornò negli anni 50, nel 1457 per una commissione da parte della cattedrale del Duomo di Siena nel bellissimo, celebre San Giovanni Battista che in questi giorni mostra a Palazzo Scorzi a Firenze la mostra di Donatello in cui assolutamente fu importante per una svolta più espressiva e ancora più plastica nei confronti dell'arte fiorentina del vecchietta e questo confronto è abbastanza calzante quasi come se l'opera del vecchietta volesse essere una citazione di Donatello. e con questa si conclude la mia presentazione, spero di avervi dato una carrellata abbastanza esagostiva delle opere del vecchietta in terra di Siena e speriamo di vedervi nei nostri musei che ci sono due notizie e quindi è proprio qui e questo è il sistema di San Giovanni e quindi